Abbiamo fatto trasferte di Perugia che magari per errori nostri o comunque sia così non abbiamo fatto benissimo. La scorsa dovevamo gestirla meglio sul nostro vantaggio che era un vantaggio importante e secondo me abbiamo fatto una buona settimana in cui abbiamo lavorato quindi stiamo prendendo sempre più conoscenza dei meccanismi e quindi secondo me questa trasferta, questa partita ci serve un po' come rilancio. Si parla tanto di Valzania e a questo punto è ora di giocare no? Eh io nel senso magari all'inizio un pochino diciamo che non dico l'ho pagato però nel senso magari ci ho messo un pochino per entrare nei meccanismi che voleva il mister. Penso che adesso nel senso sia pronto comunque anche fisicamente sto bene quindi aspetto la mia occasione nel senso il mister comunque sia ora magari in mente la sua formazione nell'ultima che comunque sia può essere che stiamo facendo bene anche se magari non stia raccogliendo tutti i punti però io sto lì alla finestra, continuo comunque a lavorare e appena c'è l'opportunità spero che mi metta dentro e spero di far bene. Per chi non ti conoscesse chi è Luca Valzania? Sono un ragazzo comunque sia giovane che però ormai diciamo un po' di esperienza ce l'avevo alle spalle due campionati di B quindi nel mio piccolo una piccola esperienza me la porto dietro. E nel senso io sono a disposizione sia della squadra che del mister ovviamente devo essere anch'io pronto sia mentalmente che fisicamente perché so che il mister chiede tanto e so che posso anche farlo quindi nel senso su quello lì ne sono consapevole e quindi nel senso spero che quando ci sia la mia occasione di far bene e poi di continuare a giocare perché me lo merito.